Ciao ragazzi, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Quest'oggi volevo fare un pochino la persona seria, ma proprio poco poco. Volevo presentarvi un mio brano che ho scritto per uno spettacolo teatrale dal titolo Exite, scritto da Nancy Citro e con la regia di Gabriele Girondi. Questo pezzo descrive una scena dove c'è un ballo molto particolare, ma non voglio spoilerare. E quindi, vabbè, volevo approfittare dell'occasione per farvelo ascoltare. Buon ascolto! 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 Grazie a tutti